Sarebbe bastato anche un pareggio, ma il Football Club non ha voluto correre problemi. Poco avvezza le mezze misure, la formazione di Roberto Baronio ha deciso di prendersi la finalissima, così com'è nel suo stile, ovvero giocando bene e dilagando, tanto da staccare il biglietto per Cortona con un sonoro 4-0. Appena due minuti ed è subito musica. Favaro e Minato si scontrano sul lancio di Siciliano, aprendo un autostato a Kunso, che deve entrare in aria e consegnare a Fratini un pallone sul quale basta spingere in rete il rapido vantaggio Orange. La strada si mette in salita per un Giorgione che prova subito a scuotersi dallo shock, ma al quinto a Gemianne mette alto dopo la bella combinazione con Piccolo. Il Football torna invece a farsi vedere all'undicesimo, quando Kiti prova ad approfittare della respinta di Tommasi, spedendo il suo destro alto sopra la traversa. Al quarto d'ora alto squillo Orange. Punizione di Sconciaforni, la difesa veneta allontana ma dalle parti di Achilli. Il numero 10 finisce a terra ma per il direttore di gara si può continuare e Siciliano mette alto da buona posizione. Il raddoppio del football è però nell'aria e si materializza al venticinquesimo. Kiti trova Achilli, che fa da sponda per Sconciaforni. Dalla stessa mattonella di San Benedetto il numero 4 non perdona e il suo mancino è una sentenza sulla quale Liviero non può impedire il 2-0. Al ventinovesimo il Giorgione prova a rimettere la testa avanti e Gasci trova il corridoio per il solito a Gemianne. Sul diagonale del numero 11 Ferrari forse tocca con un braccio, ma il signor Bragliola facendo ricontinuare. L'ultima occasione della prima frazione è però nuovamente Orange. Punizione di Sconciaforni, Liviero respinge ma centralmente, dove Kiti potrebbe fare tap-in ma dilapida il possibile 3-0. Nella ripresa Baronio spedisce subito dentro Rossi e in Palomeni, dando ancora più incisività a una squadra che dopo neanche un minuto sfiora il Triss, ma prima è Liviero a salvare Zucchiti, poi ci pensa Fafaro ad allontanare il tap-in di Fratini. Entrano poi anche Craxi e Meledandri e al ventesimo sono proprio loro a creare il sciupare davanti alla porta di Liviero, un'altra buona chance per arrotondare il punteggio. Il numero 20 di Baronio potrebbe colpire anche 5 G di lancette più tardi, ma il suo colpo di testa picchia a terra e si impenna sopra la traversa. L'unico vero pericolo del football se lo crea da solo quando al ventottesimo è Maestrelli a rischiare l'autogol nel tentativo di chiudere sul cross di Issaia-Bré. Passato il mini pericolo Lioran Giovanna chiuderla e al trentaduesimo il 3-0 porta la firma di Impallomeni che fa il vuoto a destra, raccoglie la respinta sul tocco di Peri e da due passi mentre dentro il terzo gol di giornata. Prima del tipice fischio finale c'è ancora spazio per vedere un'altra giocata coi fiocchi del numero 18 che consegna a Craxi un pallone sul quale l'attaccante di Baronio non fallisce l'invito per calare anche il quarto asso sul panno verde di Asciano. Finisce con un 4-0 che lancia di diritto il football club in finale. Sabato a Cortona ci sarà da piegare l'Azzano Cene che tenterà di vendicare la sconfitta della Juniors rimediata contro un'altra laziale ovvero la Vigor per Conti. I ragazzi di Baronio sanno però che il sogno tricolore è alla portata vietato avere paura e imperativo carregorico e provarci per tingere di verde, bianco e rosso il cielo toscano.